Musica Ecco, mi vuoi intervistare a me? Ehi Parì Ciao Parì, cosa va? Vai bene tu? Tu sei da Palmore o no? No, non sono nato a Palmore Ma tu sei nato? La provincia di Pescara, Rosciano Ah Rosciano, però sei stato a Palmore E' stato a Palmore E' stato a Palmore E' stato a Germania Ma chi è il Quasirilla? Il Quasirilla? Quello che si metteva i soldi Il Quasirilla Il Salvatanelli Non si dice a me fa Il Dicianni è il Quasirilla Il Salvatanelli Il Salvatanelli è l'italiano In dialetto non li chiamano Non ce la ricordo Il Quasirilla Il Quasirilla Il Quasirilla Metteva dentro la pignata i soldi Dopo quando la rompe Pira la mazza e la rompe E ti ripira E' dentro la pignata? Dentro la pignata E' sicuro che... Ma mi sa che il Quasirilla Si diceva Il Quasirilla Il Quasirilla Che era pure un dragone E' chi? Lasciavano una bocchetta al muro Lasciavano una scatoletta In una bocchetta E gli stavano le soldi Che andava a prendere quello E' a rompe quello E' a prendere quello E' a prendere quello Allora il Quasirilla La mette dentro il giocionare E metti dentro il giocionare Ora quello Bravo Dentro il giocionare Che hanno il giocionare? E' chi è lo giocionare? Lo truffolo Ah tu sei bene Quindi è la provincia di Campobassa La provincia di Campobassa Mangi e beversi questa spassa Alla può essere tortoarelle Duvido, può essere tortoarelle Si 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 Ma è come si che Questa è il motivo Ma... Ma questo è questo Questa è la questa Questa è la questa che te la torga e ci bis, che se vede il paese le tortarelle, forse si faceva le tortarelle Non crede che si fanno le tortarelle? Ma non lo so, va bene, eccoci diciamo, è un detto Ma il motivo? Il motivo, forse, perché ci sta Perché la gente sente solo, l'urtulino mi aveva venuto le pepe e le tortarelle Le mondanese piove tutte le tortarelle più lune Ah, questo è il motivo A me le tortarelle, dalle ponte adesso, le mirtici Ha fatto tutto il giro, la madonna delle ponte, la ponte, la ponte, le ha trovato la ponte E mi ha detto, che cazzo stai facendo? 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 Eh 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 Ma se mi ha registrato qua, non fa buono Ma arriviamo a lì, arriviamo un attimo a lì Ma arriviamo un attimo a lì, dai, quasi dopo Questa ha fatto una chiusura qualche ora Ha fatto una chiusura che non fa buono Troppo male a lì Quindi lo quasi rile Lo quasi rile, bene che poi No, non per te il quasi rile No, io non so, io ti ho detto Quale era il quasi rile? Eh, era il quasi rile Il salvadanaio Bravo Qualsiasi salvadanaio Perché una volta messa non poteva ripiense non rompere Dilele a Franceschini Dilele a Franceschini Dilele a Franceschini Il mezzo di Sanzallo e il mezzo di Montanerro Franceschini Ah lui Lui, lui Lui doveva qui, doveva A chi è Luca Resilla Lui, lui 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 Va buono Amici Ciao Ecco, siamo partiti dal quasi rile Si è capito il turniere Il quasi rile Ieri lo trovo Si faceva la rase Si metteva il soldi Si leva la roba per cacciare Va buono Ciao 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 Ciao